Il Partito Democratico di Arezzo riparte da tre reggenti al posto di un segretario. Si tratta di Matteo Bracciali, rappresentante della componente arenziana, consigliere comunale di Arezzo e candidato del centro-sinistra alle ultime amministrative, Francesco Ruscelli, per area DEMS, che fa riferimento a Zingaretti, ex assessore provinciale e attualmente segretario della sezione di cavriglia del partito, ed infine Massimo Pescini, sindaco di San Ciasciano, Val di Pesa, responsabile regionale degli enti locali e individuato come figura di garanzia in un assetto comunque provvisorio. Ma siamo in una fase di transizione, dopo le dimissioni del segretario provinciale era necessario creare una fase ponte che consentisse di affrontare una serie di questioni strategiche fondamentali per il partito e aiutare il partito ad arrivare alla fase delle elezioni amministrative, superare il congresso nazionale e poi dopo celebrare, come faremo a giugno, il congresso provinciale, rieleggendo il nuovo segretario provinciale. Quali queste scelte strategiche? Sicuramente il centro-sinistra e il partito democratico stanno vivendo un momento molto delicato, questo a livello nazionale, per questo abbiamo un congresso nazionale che avrà il compito di rideterminare l'identità politica, la cultura politica e il progetto politico generale del partito, la sua strategia a livello nazionale. Nel territorio abbiamo 25 comuni che andranno a votare, sulle quali dobbiamo individuare candidature, progettualità politiche, liste e percorsi adeguati. Poi è inutile negarlo, vi sono anche questioni di carattere organizzativo, finanziario, che fanno parte della politica un po' a livello generale, che dobbiamo affrontare e risolvere con spirito di collaborazione all'insegno dell'appartenenza alla medesima comunità politica.